Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del lunedì. Mauro Caimi qui con voi, iniziamo la settimana con un'analisi sui grafici di quello che sono i mercati delle criptovalute, che non lo facciamo da una settimana, più o meno da lunedì scorso, e andiamo a guardare una cosa molto importante, una figura di continuazione del trend che Bitcoin sta disegnando su dei time frame daily, andremo a valutare questa figura di inversione, andiamo a vedere anche un'altra cosa, come si disegna, qual è il modo giusto di disegnare questa figura di continuazione, che è abbastanza evidente, si chiama wage, ve lo dico subito, è una specie di cuneo, che è solitamente legata a una continuazione del trend, quindi questa fase di laterale ribassista, di indecisione del mercato, dovrebbe poi andare a finire in teoria di analisi ciclica e di analisi tecnica classica, dovrebbe andare a finire poi in una continuazione del trend rialzista, che Bitcoin, ricordo, ha iniziato lo scorso dicembre 2018. I dubbi però su queste figure di continuazione esistono sempre ragazzi, e quindi dobbiamo andare a fare un'analisi anche non soltanto applicando la teoria dell'analisi tecnica classica, in maniera corretta, lo vediamo oggi come si fa, vedremo anche come, vi do un consiglio io personale, su come disegnare bene questa figura, l'ho spiegata per esempio nei miei corsi di formazione, nel corso start ci sono tutte le figure di continuazione, ma oggi vi do questa chicca come disegnarle in questi momenti, soprattutto un po' indaffarati, un po' concitati nei mercati, e poi però andiamo a fare, alla fine del video, anche una riflessione sulle probabilità che questa figura di inversione venga rispettata, e lì ci sarà una chicca di analisi ciclica e di come la utilizzo io, che probabilmente vi aprirà la mente, come dico sempre, Open Your Mind, uno dei miei vari slogan, ragazzi, ormai li conoscete, perciò andiamo sui grafici, cercate la massima attenzione per questo video, molto importante perché andremo ad avere un'idea generale anche di quello che potrebbe essere la prossima settimana, questa settimana ovviamente in corso, appena iniziata, e andiamo a fare anche un po', un pizzico di formazione professionale, perché vi spiegherò come si disegna bene questa figura. Allora dietro di me, vedete già il grafico, io mi metto, ragazzi gli occhiali, perché se no non vedo bene. Allora qui, intanto, volevo dirvi in maniera abbastanza evidente, io ho disegnato già il wage, che lo vedete, questo qui, questo è il triangolo, che è una figura di continuazione del trend, e insomma ragazzi, per quale motivo io l'ho disegnato in questo modo, che sembra essere un modo diverso di disegnare questa figura rispetto alla chiusura, quindi ai massimi e ai minimi, che vedete, ed è qui già, insomma, il primo, diciamo, valore aggiunto di questo video, che volevo indicarvi, quindi il primo obiettivo di questo video. Intanto ingrandiamo il grafico per vedere il wage in maniera abbastanza netta, evidente, insomma, Bitcoin è qui, ragazzi, guardate che ha fatto, ci sono dei segnali di analisi ciclica e di analisi tecnica importantissimi in questa fase, nella Trading Con Academy ne parliamo da una settimana, abbiamo fatto anche un video di approfondimento molto importante, stiamo attendendo una view, vediamo se riuscirò a svelarvela fra qualche settimana, stiamo attendendo con tutti gli utenti, vediamo se il mercato va verso quella direzione e ci dà effettivamente la possibilità di giocare le nostre carte di trading, perché è un avvio interessante se dovesse verificarsi, una cosa un po' complottista, ragazzi, una cosa un po' strana, insomma, che ci è venuto in mente, va bene, allora questo wage, ragazzi, si disegna così, perché? Perché potremmo fare riferimento, diciamo, a questi livelli di massimo, vedete che sono delle candele, quindi a questo punto dovrei spostarlo e disegnarlo in questo modo, però, però, per una serie di motivi, per una serie di motivi che sono legati all'attuale situazione di Bitcoin e soprattutto ad un motivo molto particolare, cioè questo spike realzista, questo massimo di giugno, che non lo reputo assolutamente un massimo reale per Bitcoin, ho eliminato gli spike, in questo caso, nel disegno di questa figura di inversione. E poi c'è anche qui, ragazzi, dovremmo farlo in questo modo, quindi guardate come cambia, c'è una bella differenza se io faccio la figura disegnata così, che è più ampia di quella che vi ho disegnato io, oppure se la facciamo come abbiamo fatto prima e come si fa, semplicemente in un modo, ragazzi. Allora, c'è un problema di fondo, questi spike di Bitcoin, uno, due, in particolare quelli rialzisti, non quelli ribassisti, che potremmo anche accettarli, ragazzi, ma quelli rialzisti, soprattutto quello del 29 giugno del 2019 e quello del 10 luglio del 2019, sono degli spike dovuti all'estrema volatilità del mercato di Bitcoin. Questo anche, ragazzi, ecco, questo spike ribassista, però in questo momento, nel disegno della figura di continuazione del trend, non ci interessa, quindi non lo valutiamo, ma quello che invece sono questi due massimi, sono profondamente, non dico manipolati, ragazzi, però pieni di rumore, pieni di rumore, cioè a noi non serve prenderli in considerazione e questo un po' è a discrezione dell'analista, a discrezione del trader, qui dovete essere un po' bravi, ok? Dovete avere esperienza per valutare questa cosa, perché? Perché in realtà, ragazzi, questo spike non ha nessun significato, né da un punto di vista di trading mensile, quindi time frame mensile, né dal punto di vista di time frame settimanale, cioè semplicemente il mercato è esagerato, come fa sempre su questi tipi di mercati, quindi andiamo a considerare poi questo massimo di Bitcoin come un massimo da prendere in considerazione per fare un'analisi di natura tecnica, quindi un disegnino, in sostanza, ragazzi, io non lo vedo, fattibile. Ovviamente è un'opinione, quello che sto dicendo qui, si può fare tranquillamente un wedge disegnato in questo modo, possiamo anche per esempio per la pluralità di espressioni disegnarli entrambi, ragazzi, nulla vieta, anzi lo facciamo, quindi questo lo lasciamo così, ok? E adesso andiamo a disegnarci l'altro, quello un po' più stretto, possiamo poi tenerli tutti e due d'occhio, ovviamente, se volete usare, diciamo, questo tipo di strategia del wedge, andiamo però a disegnare l'altro, come si fa quello che io ritengo più corretto, più logico? Andiamo qui, ragazzi, ed eliminiamo le shadow, come si eliminano le shadow? Consideriamo soltanto le close, guardate un po' come cambia il mercato, intanto, in maniera evidente, ragazzi, il mercato risulta più chiaro da leggere, perché il mercato qui, vedete, ha fatto degli spike senza senso, non tanto i minimi, vi ripeto, quelli di questi giorni, che sono molto simili alle close, vedete, più o meno siamo lì, non cambia granché, ma qui e qui siamo in punti senza senso, perché da un punto di vista delineale, guardate come, che buchi che crea, guardate, guardate qui e qui, proprio praticamente sono quasi inesistenti. Allora andiamo a fare questo disegno di questo wedge numero 2, vi cambio il colore, lo mettiamo rosso, come si fa? partiamo da qui, vedete, ragazzi, e ce ne andiamo qua. Intanto l'unione dei massimi risulta a questo punto molto più chiara, le unisce tutte e tre, vedete, ha meno rumore, questo è importante comprenderlo, giusto o sbagliato direi meno rumore. E poi l'altro è qui, ragazzi, vedete, che è l'altro che dobbiamo disegnare. Allora, questo, a mio avviso, è il wedge corretto, quindi la figura di continuazione del trend di Bitcoin va vista così, vedete, ragazzi, va vista in questo modo. Va vista in questo modo perché è più tendenzialmente schiacciata dal basso, come lo vedete, quindi più alta dal basso, ma è più, più laterale dal punto di vista dei massimi. Questo significa che probabilmente, ragazzi, una, diciamo, rottura di questo wedge blu e magari Bitcoin si posiziona qua, se ne va qui, vedete, magari verso settembre, non è, diciamo, valida. Ecco, questo è quello del discorso. Cioè, praticamente stiamo dando spazio al mercato di fare un po' di fluttuazione, un po' di trading range in più. Questa è la logica, è una logica che io ritengo corretta in una fase di trading range come questa, e poi va valutata anche da un punto di vista ciclico, insomma, che c'è lì questa idea che mi è balenata, insomma, di cui vi ho parlato prima, di cui ho discusso con un video special nella Academy. Allora, andiamo a guardare come cambia il wedge nel disegno, anche con la nostra classica, il nostro classico, diciamo, grafico, da un punto di vista di college shadow, quindi con tutti i prezzi, compresi i massimi e i minimi, quindi senza ridurre il numero delle informazioni. Vedete come cambia? Il wedge blu è più pendente, dall'alto verso il basso, e lascia più spazio verso giù, ragazzi, mentre il wedge rosso è più costruito, più lineare, più standard. Però, come lo interpretiamo? Beh, allora, se il mercato va a rompere verso il basso questa figura, ragazzi, e fa così, ci deve chiudere chiaramente sopra. Queste sono le clause daily, quindi se noi applichiamo il rosso, in sostanza, dobbiamo guardare poi la chiusura della giornata. Se noi applichiamo invece il blu, dovremmo tecnicamente guardare anche i minimi, ragazzi, però io vi dico sempre, insomma, clause daily, clause daily, vedete la rottura di supporti, di resistenza, la rottura di figure di continuazione del trend, va fatta guardando le chiusure daily del grafico. Ancora di più su bitcoin, ragazzi, che la volatilità è enorme, soprattutto per quanto riguarda i massimi, i minimi, queste shadow impressionanti qui, ragazzi, senza senso, e quindi andiamo a guardare le clause. Bene, vi ho detto come si disegna un wage, secondo me come va disegnato in maniera corretta, quello che userò io per quanto riguarda bitcoin, in questo momento è quello lì, rosso, che vi ho detto. Quindi io gli ricambio colore, ci ripeto il mio colore preferito, che è quello, il bluet, e l'azzurrino, lo so come si chiama questo colore, e questo qui, che vi ho fatto vedere, lo cancello perché voglio pulizia sul mio grafico e non voglio informazioni forvianti, troppe informazioni a volte sono negative. Allora, andiamo poi a fare la chiusura di questo video, analizzando quella che è l'analisi ciclica della settimana e vedendo un po' anche questo accenno a questa possibilità. Allora, questa è la figura di wage, quindi di continuazione che il mercato di bitcoin sta disegnando. Intanto, ragazzi, la sta facendo sul grafico daily, ma non la sta facendo sul grafico weekly, perché il grafico weekly, oggi non riusciamo a vederlo, che non l'ho preparato, ma il grafico weekly, se guardiamo le clause della settimana, non sta facendo un wage, ma sta facendo una specie di rettangolo. Anch'esso è una figura di continuazione, sicuramente, ma un po' diversa da quella che stiamo vedendo qui. Quindi, la probabilità della validità di questa figura di continuazione del trend si va ad assottigliare, perché su un time frame maggiore il mercato non la sta rispettando, ragazzi. E poi c'è un problema, c'è un problema di cui stiamo discutendo anche qui da giorni nell'Academy Premium, oggi ne parliamo anche qui. Da un punto di vista di analisi ciclica, abbiamo un ciclo in attesa, che è un nuovo mensile, che dovrebbe essere iniziato il 15 di agosto. Ragazzi, questo nuovo mensile va in close più o meno, più o meno intorno al 10, la prima decada di settembre, poi sapete che hanno una grande fluttuazione, grande variabilità. Però, se così fosse, ragazzi, allora, o il mercato ci fa un super app, se ne va qui, diciamo, in questi giorni, e poi mi va a fare una close ciclica, ok? In questo modo facendo un ciclo rialzista, intermedio, perché, insomma, sarebbe un ciclo anomalo, devo dire la verità, oppure, ragazzi, questa figura del wage ha difficoltà ad essere confermata, perché la conferma della figura di continuazione avviene solo se il mercato sale qui, quindi, se se ne va sopra il trend line discendente, a quel punto conferma il wage, e la figura di continuazione, ma incontrerebbe immediatamente la resistenza statica a 12.100, che poi sono 12.000 circa, vedete, ragazzi, questa qui, quindi, il mio dubbio è sul fatto di questo wage, ragazzi, che più passa il tempo, più vedo questa figura come una figura di continuazione del trend che è un po' formatasi a caso, diciamo così, ok? Per caso, perché, in realtà, i veri livelli di resistenza sono questi, ragazzi, quindi 12.100, livello di resistenza, e poi abbiamo questo livello qui su a 12.9. Se il mercato salirà, beh, venga, intanto, ovviamente, ragazzi, e se il mercato salirà, avrà intanto questo scoglio iniziale, quindi 11.000 da rompere in chiusura di giornata, e poi, avrà questo wage a post, appunto, ma anche sopra il wage, abbiamo subito un livello di resistenza fondamentale, difficilissimo da rompere, che questo qui, vedete, ha tenuto il mercato sotto per due mesi, quindi capite bene che tipo di resistenza è questa a 12.100. Molto, molto importante. Da un punto di vista ciclico, se invece andiamo a considerare il fatto che siamo più o meno in una fase in cui il mercato deve fare poi questo, vedete come la difficoltà di questo wage che venga confermato al rialzo assume sempre più importanza, quindi, in sostanza, qual è il problema, ragazzi? Se viene rotto il livello di massimo a 11.000, quindi il mercato va qui, allora c'è il respiro per il mercato e quindi è possibile che questo wage venga in effetti poi magari confermato più in là nel tempo. ma ciclicamente parlando è improbabile questo discorso, quindi è possibile che il mercato invece vada semplicemente ad aver fatto un massimo ciclico qui, adesso siamo qui, provi in sostanza a fare magari una fase di massimo e poi mi vada in close del ciclo mensile. Se fa, questa è l'ipotesi ragazzi più probabile, poi sapete che io seguo sempre il trend quindi diciamo mi importa poco di farmi le idee da qui a fine mese non mi interessa, mi interessa in sostanza avere tutte le possibilità già preconfezionate così che io riesco a tradare ovviamente in un certo modo. Chiaramente se saliamo sopra 11.000 è un segnale long, se invece andiamo al di sotto di questo livello a di 10.000 dollari è un segnale short ragazzi, sono i due livelli che vedete in rosso sono i due livelli di analisi tecnica per i traders che vogliono proprio tradare. Tra l'altro stiamo applicando anche una tecnica simpaticissima di short in accadino che ho fatto due operazioni tutte e due in profitto l'altro giorno proprio una tecnica formativa simpaticissima spero tra l'altro a settembre di poter congeniare una tabella con una serie di titoli che possono rientrare diciamo in questa tecnica proprio per trader advanced diciamo così intermedi quelli che fanno tanto trading intraday bellissima tecnica ci siamo divertiti allora per concludere il video se no sono andato molto oltre attenzione a considerare questa figura di inversione come di continuazione del trend scusate come una figura che possa avere un'ampia probabilità di verificarsi perché ciclicamente il mercato ci dice il contrario quindi chi dei due avrà ragione l'analisi ciclica ci dice che dobbiamo andare a fare un minimo importante entro la prima decada di settembre l'analisi della tecnica ci dice che sta formando un wage che è una figura di continuazione ma ci starebbe ragazzi anche con la rottura qui quindi con la chiusura di analisi ciclica magari non troppo bassa e poi riparte assolutamente ci sta però a quel punto dovremmo considerare questo wage in maniera un po' più alternativa non è confermato dal time frame settionale io in questo momento questa figura di continuazione del trend la prendo con le pinze e invece di andare diciamo a tradare senza senso uso i miei trend system oggi è long il mid term ragazzi perché segue delle analisi statistiche quindi decide lui in sostanza quando entrare ma e quindi potrebbe magari fare anche profitto in questo caso se il mercato sale gli altri sistemi sono tutti fuori la holding position resta long su bitcoin fino a quando non siamo sotto il supportone a 9000 e niente per oggi vi ho detto tutto abbiamo spiegato come si disegna questa figura di continuazione in maniera corretta bene io vi auguro un buon inizio settimana iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un pollizione e sempre nei commenti tutte le idee che vi frullano in testa ciao a tutti a presto ciao a tutti ciao a tutti